Fermo ancora all'arrivo di Scoscini, temporalmente parlando, il mercato in ingresso per la nuova San Giovannese, l'ex centrale del Valdarno Football Club, a lungo anche miglior marcatore giallo-blu nella passata stagione, resta l'ultimo colpo piazzato da Delgrosso e Caleri, viste le singole piste seguite dalla stanza dei Bottoni, che non stanno riscontrando pareri favorevoli nei giocatori ricercati. Brancalenti è stato l'ultimo a dire no, l'attaccante infatti era più propenso ad accettare il rimborso della Castiglionese, pronta ad allestire una squadra molto competitiva per il massimo palcoscenico regionale e quindi le attenzioni azzurre sembrano doversi spostare altrove. C'è sotto l'obiettivo adesso il fiesolano Andrea Cragno, classe 97, proprietà Livorno, che quindi sarebbe anche un giocatore utile per le quote. Cragno la scorsa stagione ha giocato da titolare alla Fezzanese, segnando tre gol nel girone terrenico della serie di vinto dal Gavorrano. Casomai c'è da dire che lo stesso Cragno non è esattamente una prima punta, ma un attaccante esterno che predilige avere centralmente un punto di riferimento offensivo.